Ecco qua, allora, bene bene, vediamo che arrivano ancora un po' delle persone che facciamo accomodare, ma intanto continuiamo un attimino per quest'ultima tranche con una nuova arrivatrice, una persona che viene da Roma, è dottoressa, è psicologa clinica, psicoterapeuta ad orientamento strategico breve di cui è anche docente nella scuola di specializzazione di Roma. Oltretutto su questa è terapeuta IADL che sarebbe Inducid After Deep Communication che è oltretutto importantissimo perché sono solamente dieci le persone che usano e sanno usare questa tecnica in Italia, quindi abbiamo la fortuna davvero di avere una primizia di queste persone. Master Reiki, tarologa, socio fondatore dell'Associazione Culturale Armonici Sentieri. Oltretutto è con grande piacere che vi informo che Paola ha frequentato la scuola di parapsicologia di Slavi Gerig, della scuola del corso che ha tenuto a Roma e che, tra occhiato il microfono qua, c'è che, Dani coniuga l'esperienza psicoterapeutica con il mondo delle energie sottili tenendo sessioni individuali, seminari, corsi e conferenze. Qui siamo per questo, vi presento la dottoressa Paola Matelucci. Grazie, Daniela. Buonasera a tutti. Ho un compito molto attivo perché, pensando l'ultima, devo tenere l'attenzione di tutti e dopo anche una giornata veramente piena di interessi e di tantissimi interventi, cercherò di fare del mio meglio anche con la vostra collaborazione. Sono estremamente felice di essere qui, come questa Daniela, ho conosciuto Slavi a Roma, frequentando la sua scuola e raccontandoci così un po' di cose le ho esposto di questa tecnica, che è la IATG. Una tecnica, a mio avviso, estremamente interessante, quindi sono veramente molto felice di poterla presentare a voi perché realizza anche quello che è sempre stato il mio sogno, e cioè il fatto di coniugare l'aspetto psicoterapeutico con l'aspetto spirituale. Io nasco come psicoterapeuta, ho fatto tutti i miei percorsi didattici in maniera molto ortodossa e dopo un 15-18 anni di lavoro di questo tipo, a un certo momento mi blocco. Cioè mi blocco nel senso che mi rendo conto che lavorare, nonostante abbia un approccio molto strategico, quindi una cosa innovativa già da un po' di tempo, però mi accorgo che il lavoro classico, di psicoterapia, dove si parla, si ragiona, a un certo punto con determinate persone non funziona. E siccome io credo che sia compito di ognuno di noi come psicoterapeuta, quindi come professionista del settore, non applicare un modello alla persona che viene, ma cercare di entrare in empatia con quella persona e trovare la strategia utile che lei, che serve, che coniuga meglio quella che è la sua personalità, per portarla di dove ci chiede di portarla, a risolvere un problema. Quindi di fronte a questo mi blocco, come direbbe il relatore di Bragadini prima, ma nel senso guarda caso, le cose non sono mai al caso, e quindi entro in questa crisi professionale, che poi diventa sempre anche una crisi personale, chiaramente, perché in un lavoro come il mio non è che se io non credo in quello che faccio non funziona, ovviamente, e quindi incomincio a cercare qualche cosa di molto lontano da me, cioè la frase che mi sono detta è cos'è che io non farei mai? Cos'è che è così lontano da me rispetto a questo mondo di energie esattivi? Tanto da, appunto, non averlo fino ad oggi pensato, ad un certo punto a proposito delle coincidenze entro in contatto a quei tempi con il Reiki e quindi inizio questo percorso. Da lì mi si apre un mondo e incomincio sempre all'inizio con questa mente scientifica e quindi incomincio a fare workshop di tutti i generi, corsi, seminari, tutto quello che c'è più o meno penso di averlo fatto e cerco poi piano piano, con l'esperienza personale soprattutto, di coniugare, capisco, la forza della dimensione spirituale. Ho sempre avuto chiaramente una passione innata per Jung, ovviamente, la mia analisi personale durata, non vi dico quanto perché dovevo fare un percorso lunghissimo, 15 anni, l'ho fatta con un jungiano. Quindi cosa succede? Succede che riesco a mettere insieme le tecniche e la professionalità di uno psicoterapeuta con la dimensione della spiritualità e calcolando un particolare che per me non è un particolare perché è interessante come sto comprendendo ovviamente nella mia strada, nel mio viaggio, è che tutte le persone che vengono da me sono abituate ad un approccio molto classico, quindi non vengono da me persone adesso sì, ma all'inizio no ovviamente, no? Molto aperte sulla dimensione spirituale. Quindi mi trovo a fare un po' da ponte e con chi me lo consentiva piano piano di aprirle verso questa dimensione spirituale e quindi lavorata tra virgolette in mille modi, no? Con tanti strumenti energetici e quant'altro per aiutarla a comprendere come un percorso personale non possa essere scisso dalla conoscenza spirituale. Conoscenza spirituale, Jung diceva una frase che è assolutamente rappresentativa secondo me e cioè che la malattia nasce dal distacco con la spiritualità e questo è assolutamente esplicativo, no? E quindi integrando, aiutando piano piano le persone ad aprire questa dimensione spirituale, le terapie hanno uno scatto pazzesco e sottolineano un aspetto di cui io sono assolutamente paudrice che un percorso, sia quello spirituale che quello personale, così come hanno sottolineato anche tutti i colleghi che hanno parlato fino adesso, non possono essere scissi, non possiamo andare in una direzione anche solo nella spiritualità se non affrontiamo poi le paure che abbiamo, le difficoltà che abbiamo. Nel mio percorso spirituale ho dovuto affrontare le mie di paure perché è quello che ci mette di fronte, no? Nel lavorare anche in un modo, in una dimensione che non conosciamo, di cui dobbiamo buttarci, avere coraggio, riconoscere la fede e quindi entriamo anche inutabilmente con le convinzioni che dobbiamo cambiare di noi stessi. Insomma diventa un percorso bellissimo di tutt'altra natura. E tutto questo mio percorso nel 2015 perché questa tecnica nasce nel 1995 in America, poi vi dirò brevemente come, ma il primo corso di formazione in Italia è stato fatto nel 2015 e qui ne approfitto anche per presentare la mia collega Irene Pulveri che è di qua di Milano ed eravamo un tot di persone, poi nella realtà abbiamo scoperto che era aperta e sono stati diciamo così convalidati soltanto di psicoterapeuti. Quindi in tutta Italia più o meno siamo in 10, per grosso modo. E quindi è una tecnica, vi dicevo, sono venuta per caso sempre tra virgolette in contatto con questa pubblicità, dove diceva una tecnica per l'elaborazione del lutto attraverso la quale la persona che sta elaborando il lutto può avere lei una connessione con chi non c'è più. Capite che per me, ho detto questa, io devo andare a qualunque posto perché anche fatta con il patrocino dell'Università di Torino di Psicologia è un passaggio assolutamente importante. Quindi è una tecnica, io già ho sentito un po' dire in altri convegni, è una tecnica che facilita la connessione. No, non è una tecnica che facilita la connessione. Per tutto questo c'è i slavi o le medium, ci aiutano, ci fanno i corsi, ci fanno comprendere quanto questa essenza divina è dentro di noi e ognuno di noi la può sviluppare, sviluppando le competenze necessarie per il contatto. Questa è un'altra cosa, ma è una tecnica che fa da ponte, immaginate una persona che viene per l'elaborazione di un lutto e che improvvisamente, diciamo nel 60% dei casi, improvvisamente durante questa elaborazione, che ora cercherò di spiegarvi come avviene, l'elaborazione non è il contatto perché questo non si sa, riesce a comunicare con la persona del contatto. Una, chiamiamola paziente in questo caso, che è molto lontana dalla dimensione spirituale, che non è lì da me per fare questo, ma per elaborare un lutto. Si apre un mondo, è un'esperienza che ovviamente per chi la vive può cambiare, non soltanto in quel momento la sua vita, ma la percezione di quello che poi sarà la sua vita da quel momento in poi. Allora, questo, una cosa importantissima, no, ti stavo dicendo appunto, che nasce come tecnica dell'elaborazione del lutto dove si può avere questa connessione che, come è stato più volte sottolineato anche stasera, ognuno ha la connessione in una maniera del tutto soggettiva, a seconda della sua, in quel momento della sua preparazione in qualche modo anche ad avere, prendere questo tipo di informazione attraverso i canali sensoriali che ha più sviluppato, per cui c'è qualcuno che ha una chiaroveggenza e quindi riesce a vedere, qualcun altro riesce a sentire, qualcun altro ha la percezione diretta proprio di una carezza, no, un sentire, avere la certezza che quella persona sta lì, qualcun altro ha un vero e proprio dialogo. Quindi possono essere veramente molto diversi i tipi di contatto, chiaramente come siamo diversi noi. Ora, ecco, la cosa molto importante, prima quella che durante il congresso di tanto tu stiva ero io, quindi spero che non, una cosa molto importante, quindi che ci tengo in particolar modo, perché soprattutto per le aspettative, perché questo deve essere chiaro, è appunto che si viene per elaborare il lotto e durante questa elaborazione ci può essere, io non posso garantirlo, onestamente non posso garantirlo, ci può essere la possibilità di avere la connessione. L'altra cosa molto interessante, che ancora non vi ho detto, è che una tecnica si fa in due sedute, cioè un colloquio inizialmente preliminare, perché non ci sono controindicazioni, al massimo non si ha la connessione, ma l'elaborazione del lotto sì, non ci sono controindicazioni, ma ci sono degli impedimenti, come vedremo adesso a breve, e quindi il colloquio preliminare è necessario per comprendere se quella persona sta nel momento adeguato per fare questo passaggio. Ma poi la tecnica si svolge in due sedute di un'ora e mezzo, forse anche in una, ci prendiamo la seconda possibilità, perché è anche importante, anche una volta svenuta la connessione, poter avere del tempo eventualmente per parlarne la volta successiva. Allora, una piccolissima, io sono anche molto poco psicologa, nel senso non vi preoccupate, non parlerò di tecnici con tecnicismi, cerco di rendere le cose molto semplici, però per capirci, per creare proprio una piattaforma di linguaggio comune, quando parliamo di lutto, noi psicologi parliamo di un processo che dura molto tempo, perché prende in sé i rituali, l'adattarsi a tutta una nuova situazione, quindi sono mesi, a volte anche anni. Quando invece parliamo di cordoglio, c'è il cuore che vuole, e cioè la tristezza, e quindi lì dove la IADC va ad agire, ad accelerare il processo di elaborazione della tristezza, parliamo di cordoglio. ed è questo punto importante, su cui la IADC lavora, perché nella fase del processo in generale noi abbiamo queste cinque fasi, che sono il riconoscimento della perdita, che non è così semplice, nel senso che un paio di tempo fa mi hanno chiamato a Napoli un'associazione di genitori che hanno perso i figli, ora non credo che ci sia lutto, forse no, peggiore di un lutto del genere. La credita di un figlio è qualcosa di veramente devastante. Sono andata giù, ho presentato la IADC, ho fatto delle sedute con una signora in particolare che è stata anche molto, perché si è seduta davanti a me e aspettava come se io fossi appunto una medium che io gli dessi il contatto. Le ho spiegato come funzionava, la signora ha incominciato subito a piangere e mi ha raccontato che questo figlio era morto in un incidente di macchina, che lei si sentiva assolutamente responsabile perché la sera gli aveva detto di non uscire, lui voleva uscire per forza, alla fine per tranquillizzarsi, per stare più tranquilla, lei gli ha dato le chiavi della macchina e lui ha avuto un incidente in macchina, come immaginate, erano passati già tre anni dal lutto ma la signora aveva ancora in casa la stanza del figlio, con tutte le cose del figlio, andava tutti i giorni a pulire, a pulire, a sistemare. Una persona che ha ancora un legame così forte è molto restia a cambiare questo legame perché nella sua percezione c'è lo perdo, perdo l'unico legame che ho con lui, dice io mi sento in colpa per questa morte e quindi vado in istanza, lo sento, io so che c'è, è il mio dolore che mi lega a lui. Ho cercato, ho provato prima di fare la tecnica e poi non l'abbiamo fatta nella realtà perché questa appunto è una controindicazione da un punto di vista psicologico, di spiegarle che il legame sarebbe cambiato, non sarebbe stato più un legame sul dolore e sulla colpa, ma sarebbe stato un legame nella gioia perché nel momento in cui a lei avrebbe elaborato la tristezza e avesse avuto una connessione da quel momento in poi avrebbe potuto fare esperienza di quanto il figlio va vicino a lei, di quanto sta comunque in una situazione di gioia, perché questo possiamo dirlo. La signora ovviamente non era pronta in questo passaggio, riguardava, però abbiamo deciso insieme di aspettare un po' di tempo e magari provare più avanti. Questo è per spiegarvi che il riconoscimento della perdita, che non vuol dire non soffrire ancora, ci mancherebbe, però il riconoscimento e anche l'intenzione di voler andare avanti deve essere ovviamente presente emotivamente. Così come sperimentare la tristezza di dare un motivo. Ora sicuramente tutti purtroppo abbiamo avuto un lutto, sappiamo il dolore che proviamo, però è anche vero che viviamo in una cultura che demonizza moltissimo il dolore, per cui che cosa fa? Ci dice adesso non ci pensare più, vai avanti, cerca di metterlo da parte, hai magari a una donna che ha perso il marito, a bambini piccoli, pensa ai tuoi figli, non ne parlare, non ne parlare con loro, ok a volte succedono delle cose veramente da un punto di vista psicologico un po' raccapriccianti, però ci sposta il dolore, ce lo fa mettere via e se noi abbiamo questa intenzione, ovviamente i nostri meccanismi di difesa che funzionano benissimo, perché si chiamano difesa perché stanno lì a difenderci, ci allontanano sempre di più dal dolore e incominciamo, cerchiamo di andare avanti nel miglior modo possibile. Arriva a un certo punto però, che, e qui aggancio anche un'altra cosa, arriva a un certo punto però che magari dopo, non so, un anno, ok, un anno e mezzo, la signora che sta meglio, che non pensa più tanto a questo, no? Ha un attacco di panico, improvvisamente, come mai, che cosa è successo, che cos'è che non va? In una parola, cosa è successo? Che tutte quelle emozioni che io ho nascosto, ho messo via, si sono espresse in un'altra maniera, una maniera confusa, perché io non le voglio riconoscere a livello razionale e quindi mi vanno sull'attacco di panico, che è questo attacco fisico ovviamente, perché ogni emozione corrisponde una reazione corporea, che mi fa salire l'ansia. Ora, in quel momento, la signora ha un'occasione meravigliosa, da un punto di vista psicoterapeutico ovviamente parlo, l'occasione meravigliosa è quello di dire, ah, cosa mi sta succedendo? È come se avessimo una macchina a proposito di strade e di vie, no? Che dobbiamo prendere la nostra vita, è come se guidiamo una macchina, la nostra, si accende la spia rossa e noi portiamo la macchina dall'elettraudo e gli diciamo, mi togli la spia? Non la voglio più vedere. La si trova avanti, si prende i farmaci. Se invece noi, portando la macchina dall'elettraudo, diciamo, senti, come mai si è accesa questa spia rossa? Mi dici che cosa sta succedendo nel motore? È la metafora che io utilizzo spesso per far comprendere come un sintomo non è altro che una spia che si accende per far vedere, per darci l'allarme, il segnale dal nostro corpo, che è il nostro più grande alleato, che c'è qualcosa in quel momento della nostra vita che non va bene a livello emotivo. È un segnale, anche questo, sul corpo, ma noi siamo abituati a viverlo come una patologia e quindi prendiamo il farmaco, ci blocchiamo. Allora, il mio grande sogno, ed è per questo che sto anche qui, è quello di far comprendere che la psicologia, come dice la parola stessa, che nasce la psiche, il discorso intorno all'anima, è di dire che l'hanno patologizzata, l'abbiamo patologizzata, ma non si deve occupare soltanto del sintomo, si deve occupare dell'accompagnare le persone verso un percorso di conoscenza profonda di se stesse per il contatto con la dimensione spirituale. Questo sarebbe meraviglioso. quindi, tornando al nostro esempio, la signora dovrebbe interrogarsi del perché sta male e comprendere, fare un viaggio dentro se stessa e da quel momento cambiare le cose. Vado più veloce, se no ci metto, comincio a parlare, ristabilire, l'altra fase è ristabilire una nuova relazione con il defunto, come può accadere nella IADC, identificare, addolorarsi per le perdite secondarie e sviluppare un nuovo sé positivo. Queste sono fasi che avvengono ovviamente lungo il tempo. La IADC lavora su quelle prime, la seconda e la terza, su quelle in giallo. Lavora esattamente su, attraverso una tecnica che adesso cercherò di spiegarvi in breve, nel farci stare sulla tristezza, quindi sull'elaborare quelle emozioni che avevo messo via, entrare in contatto con quelle emozioni, attraverso una tecnica della stimolazione bilaterale che adesso vediamo velocemente, una serie di set, aiuto la persona a vivere, sperimentare in quel momento le emozioni che fino a quel momento si è negata, ok? E in questo processo ad un certo punto la persona ha una IADC, cioè una connessione con la persona defunta. come funziona? Allora vi dico un attimo brevemente come nasce la tecnica, ma insomma soltanto per citarle l'autore che mi sembra d'obbligo. Alan Botkin, forse avete qualcuno ha visto da qualche parte un libro che lui ha scritto proprio su questo, ed è interessante anche a proposito di coincidenza come lui è venuto in contatto con questa tecnica, perché lui è un collega americano che lavorava soprattutto in quel periodo con i regi dalle guerre, quindi con i militari, no? E che soffrono ovviamente di disturbo post-traumatico da stress che vedono morire a volte i loro compagni. E lui lo faceva con una tecnica molto conosciuta in ambito psicoterapeutico che è l'MDR, che ha un protocollo molto lungo, molto specifico, una tecnica che funziona benissimo, ma insomma particolarmente accurato questo protocollo. E ad un certo momento lui che fa sbaglia, sbaglia un processo, un passaggio, invece di fare A fa B e quella persona ha la connessione in quel momento. Lui da bravo, anche lui molto, come dire, tecnico, non gli dà grande importanza, ma questa cosa ovviamente rimane nel subconscio e quindi lo ripropone, lo ripropone, lo ripropone e si accorge che quando lui non diceva niente, al 100% dei casi avveniva la connessione. Dal momento che lui ha strutturato il metodo e quindi ha cominciato a condividerlo, la percentuale si abbassa e siamo arrivati al 70%, ma questo è normale, no? Perché a quel punto subentano le aspettative. Per questo dico, è molto importante avvicinarsi a questa tecnica con il lotto, è difficile, però con l'obiettivo di elaborare il lotto e poi vediamo quello che accade. Se arrivo perché voglio avere la connessione è molto probabile che questo non accada. quindi lui, vi dicevo che veniva da quest'altra tecnica che è l'MDR, che è una tecnica appunto abbastanza complessa, ma che lavora con una tecnica in particolare che sono le simulazioni bilaterali, che non è solo dell'MDR ma anche di altre tecniche. Ora per capire veramente brevemente come funziona, una piccolissima premessa che contiene come sempre come le premesse una buona notizia e una cattiva. La buona notizia è che tutti noi abbiamo un sistema di autoguarigione che è assolutamente naturale, no? Come noi facciamo male il corpo si adopera per immaginare la ferita da un punto di vista più strettamente fisico. Da un punto di vista psicologico è uguale. noi siamo in grado di risolvere e guarire anche da qualunque tipo di problema a livello psicologico ed emotivo. Il nostro corpo si adopera per fare questo. C'è questo sistema che è stato chiamato sistema di elaborazione adattiva dell'informazione che a livello psicologico cosa fa? Cerca di rendere innocue quelle emozioni negative che ci arrivano e lo fa in maniera automatica senza che noi ce ne accorgiamo e lo fa in una fase particolare che è stata citata stasera nella fase REM, quando ci addormentiamo durante i sogni. Perché nei sogni in quella fase accadono dei movimenti oculari che sono il riflesso di tutta questa elaborazione che il nostro cervello fa. Molto brevemente, immaginiamo il nostro cervello come un computer, no? Arrivano tante informazioni, noi prendiamo costantemente informazioni e tutti gli eventi che ci accadono sono informazioni un po' più complesse. Perché magari un evento è fatto di una sensazione corporea, di un'emozione, di un'immagine, di un pensiero, ma sono tutte informazioni. E quando lo viviamo automaticamente nel nostro cervello ci sono tutti i vari organi deputati allo smistaggio. Così come quando nel computer inseriamo dei file, li mettiamo nelle caselle, lì dove c'è un argomento analogo, specifico, no? li mettiamo insieme. Questo sistema di autoguarigione funziona così. E quindi smista in tutte le varie sezioni che abbiamo nella nostra mente, le informazioni, le sensazioni, le emozioni, quelle simili, quelle analoghe, le mette tutte insieme, le divide, le filtra. E molto spesso riesce a farlo in maniera automatica. Vi faccio un esempio. Io lavoro in una ditta e discuto con il mio capo. Torno a casa, sono arrabbiata, sono dispiaciuta e siccome è il mio capo sono anche un po' preoccupata, no? Che succederà domani? Ad un certo punto, arrivo la sera, vado a letto. La mattina dopo mi sveglio, scusate le certificazioni, ma tanto a me interessa che voi comprendiamo il concetto. La mattina dopo mi sveglio e dico, ma sai che c'è? Ma io mi sono ricordata anche che il mio capo già ci ha litigato, già ci ha discusso, ma poi gli passa. Non è una persona che poi porta rancore. E vado in un ufficio un pochino più serena. Cosa è successo? È successo che la notte, in quel momento particolare, si creano delle connessioni neuronali, per cui tutte le informazioni che noi abbiamo preso rispetto alla giornata, a questo evento, creano nuovi significati utili. La mia preoccupazione forse è successiva perché è successo un'altra volta e andrà bene. Quindi, in base alle esperienze passate, noi possiamo creare dei nuovi significati. Ok? Mi sono stata chiara fino a qui? Perfetto. La cattiva notizia è che quando un evento è forte, è quello che gli psicologi chiamano il trauma, il trauma cos'è in una parola? È un evento che arriva carico di emozioni negative, cioè dolorose, improvvisamente nella vita della persona quando in quel momento non ha gli strumenti condividi, affettivi, per sostenerlo. Quindi ad un bambino un trauma può essere la risposta improvvisa di un genitore che è sempre stato amorevole, perché a quell'età non riesce a comprendere, fino al trauma del lutto. Ok? Quando arriva un trauma così grosso, cosa succede? Succede che tutto questo sistema va in tilt. E quindi questo evento carico della sua sensazione, immagine, pensiero, emozione, rimane fuori dalle reti neuronali e non è più, come dire, non è in grado di creare nuovi significati. E viviamo quell'evento come se fosse stessa accaduta in questo momento. Questa è la base della psicologia, della patologia psicologica. Quando io rivivo costantemente un evento, come se fosse accaduto ieri. Ok? Cosa facciamo durante la IADC? Le simulazioni bilaterali, che sono delle simulazioni alternate, non lo posso fare perché c'ho l'icolo, no? La sinistra, la sinistra, la sinistra, la sinistra. E lo posso fare con gli occhi, lo posso fare con il rumore, lo posso fare con quello che viene chiamato il tapping, toccando le parti del corpo, in tanti modi. Chi conosce le FT, per esempio, ha anche un'altra tecnica che si basa sulla simulazione bilaterale. Perché ovviamente la simulazione bilaterale fa un'altra cosa che è già stata detta oggi, no? Più volte. Cioè cosa fa? Mette in comunicazione i due misferi, no? Quello più, diciamo, razionale e quello più intuito, no? Aumentando le connessioni e quindi i significati utili. Quindi creo nuovi significati anche perché aumenta questa connessione. Quindi utilizzo una di queste tecniche e modalità per attivare la simulazione bilaterale anche a seconda della persona che abbiamo davanti e si vengono chiamati set, chiedendo alla persona di fare un passaggio che è molto importante. E cioè, ed è per questo che lo psicoterapeuta qui secondo me ha la sua importanza, perché si chiede alla persona quando viene davanti a me, oltre ovviamente un'accoglienza, un parlare, di rintracciare quello che può essere per lei il momento peggiore dell'esperienza, del trauma che ha vissuto. Mettiamo la perdita, ad esempio, della signora la perdita del marito. Insieme cerchiamo di rintracciare qual è il momento di tutta la sua tragedia in cui lei sente maggiormente il dolore. Ed è abbastanza, insomma, evidente, si chiede un paio di metri di fare una scala, anche qui ovviamente c'è tutto un protocollo che adesso non vi sto a dire nei particolari però gli si chiede di restare in quella sensazione, la si fa vivere nel corpo, dove la sente, questo dolore dove lo sente, rintracciare l'emozione, quindi nel corpo, l'immagine, il pensiero, lì si chiede di stare lì e in quel momento lì si incominciano a fare una serie di set di stimolazioni bilaterali. in tutto questo processo, che non è ovviamente di una volta perché all'inizio ci sono anche qui le resistenze, le difficoltà anche a lasciarsi andare, in tutto quindi questo processo ad un certo punto si ha la connessione. E come vi dicevo all'inizio, la persona incomincia a... si vede io ho avuto delle esperienze bellissime, poi anche Renner se vuole anche condividere lei con noi la sua esperienza in cui delle persone... quello che mi rimane più impresso a me, che sono lì e sono partecipi e guardo è la distensione del viso, è come se venga tolta una maschera e si ha un sorriso che riempie veramente la stanza è un'esperienza solitaria, ovviamente, io non entro in merito a nulla, la lascio stare, la lascio lì quando lei ha finito, riapri gli occhi, questo può essere cinque minuti, un minuto, un quarto d'ora che è un tempo lunghissimo. C'è stata una mamma dell'associazione che aveva perso la figlia però lei già sapeva che questa bimba prima o poi sarebbe morta perché è nata malata, quindi ha avuto la butta vicina o per, mi sembra, se non ricordo male, 15 anni più o meno, questa mamma ha poi mi ha raccontato, ha parlato proprio con lei, le ha detto tutta una serie di cose e quindi è stata tanto e la sensazione è bellissima, comunque sia, qualcuno ha sentito semplicemente una mano, una carezza sul viso, un profumo, una evidenza per lei che potesse testimoniare che quello che stava accadendo non era, era qualcosa di unico, di completamente diverso questa è la domanda che io faccio sempre alla fine, ma quello che ha vissuto, quello che ha sperimentato è qualcosa che può essere paragonabile ad altro che ha vissuto, ovviamente non chi è sensitivo o medio o un quant'altro e tutti rispondono di no, è la prima volta che mi succede ho una sensazione, una percezione, un'immagine del genere e l'altra cosa bellissima è che si ha la percezione diretta dell'amore dell'altro ecco perché all'inizio vi dicevo, si cambia il legame dal dolore alla gioia ma io l'ho sentita, l'ho sentita bene, l'ho sentita felice, l'ho sentita della gioia se sentivo una preoccupazione era per me e questo è meraviglioso ed è una cosa che ci tengo a sottolineare ora torniamo anche su questo, delle convinzioni che cambiano, però è molto importante perché l'unica emozione che ci aiuta in questa connessione è la tristezza, ma non per me è la tristezza proprio della mancanza della persona che amo mi preoccupo se sta bene, se sta male, dall'altra parte perché poi sono queste le domande che fanno ma sta bene? anche quando, no? facendo il corso con Slavi, no? lavoriamo su, all'aspetto della medialità ovviamente un'altra cosa, però le domande sono quelle ma sta bene? allora questa emozione ci porta su, l'emozione dell'amore ci porta immediatamente ad avere un contatto se invece stiamo su un'altra emozione che oltre a quella che vi ho detto prima del senso di colpa la rabbia il contatto non avverrà mai perché la rabbia ci fa stare sull'ego io sono arrabbiata quindi io penso alla mia rabbia così come chiaramente con un tono diverso la signora stava sul senso di colpa il suo e allora lì prima percorso personale e spirituale prima bisogna aiutare la signora a fare il suo percorso di sganciarsi dal suo senso di colpa poi arriva la connessione sicuramente perché a mio avviso questo è assolutamente il mio modo di vedere sono i due aspetti che vanno insieme no? un'altra persona un ragazzo di un medico medici poi ovviamente i medici classici sono quelli più difficili no? chiaramente però questo è un ragazzo giovane che ha approvato la IADC fallimento totale perché? perché lui ha detto ma no per il padre io ho un rapporto con mio padre splendido no 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 durante la IADC ci sono emerse tutta una serie il colloquio preliminare comunque anche durante i set di stimolazioni tutta una serie di emozioni di cui la più importante era la rabbia lui era talmente tanto arrabbiato con il padre che ad un certo punto si è alzato e se n'è andato un'altra bellissima bellissima un'altra se n'è andato nel senso poi è rientrato che abbiamo parlato però non voleva proprio si è risultato così come un'altra ragazza con la madre per il contatto con la madre anche la IADC io l'ho vista che l'ha preso lo stava prendendo il contatto ha riaperto immediatamente gli occhi ha detto no sono troppo arrabbiata con lei allora questo perché ve lo dico per sottolineare il fatto che a mio avviso non è un caso che se stiamo nell'ego quindi nelle emozioni appunto della rabbia della colpa che con ego intendo no quella parte io ve la chiamerete di personalità che ci lega a quelle che sono tutte le nostre i nostri aspetti più terreni se stiamo lì su non ci andiamo tutti tutte le persone che hanno sperimentato una IADC dicono questo e nel senso che la persona amata esiste ancora quindi cambiano a proposito di convinzioni queste convinzioni che sono importantissime sta bene ci rincontreremo e l'altro mi avvicino nella vita quotidiana tutte hanno un'esperienza bellissima qualora hanno la connessione non c'è nessuno che ecco al massimo questa ragazza che secondo me in quel momento forse si è anche un po' spaventata che è un esempio della mamma ma lì rimane non succede niente non ci sono controindicazioni di nessun tipo e questo ci porta a come dire le conseguenze meravigliose che si hanno dopo la IADC perché poi io faccio un follow up cioè chiedo alle persone dopo qualche tempo se per favore senza che tornano se non vogliono però mi fanno sapere come va perché questo è molto importante no? hanno tutte appunto hanno dei cambiamenti nel rapporto con la persona per cui hanno fatto la IADC ed è la differenza principale con le allucinazioni perché ovviamente una delle come dire critiche che vengono mosse a questa tecnica una è la suggestione però io dico basta che funzioni no? qualunque cosa se poi veramente accade va bene anche vero che come abbiamo detto all'inizio l'aspettativa qui gioca contro perché più me l'aspetto no? come quando si lavora con la spiritualità e più me l'aspetto e più non accade le allucinazioni noi un po' più addetti al settore sappiamo che sono mettono paura normalmente sono delle delle visioni di anzitutto di qualcosa che non esiste no? che qui si ha un contatto con qualcosa che già esiste no? ma in questo modo con questa tecnica è come se in quel momento riuscissimo no? a passare ad avere un'espansione di coscienza tale da avere un contatto quindi con qualcuno che è già intorno a noi e sono però come vi dicevo esperienze esperienze belle che riempiono non c'è nessuno che ha esperienze negative devastanti ed è una delle critiche appunto mosse contro l'osservazione di essere simili a delle allucinazioni l'altra è che a volte in questi contatti si hanno delle informazioni che poi tornando a casa la persona vede parla si confronta e quindi delle informazioni nuove che neanche la persona stessa sapeva e l'altro aspetto estremamente interessante è che possono essere anche condivise dal terapeuta sinceramente a me al grado del fatto ovviamente io quando facevo la IADC e non avevo un'apertura che poi Slavi mi ha aiutato a ampliare quindi stavo lì effettivamente soltanto come psicoterapeuta mi è capitata una volta una volta ed è stato molto bello perché era una ragazza che stava elaborando la perdita di una zia alla quale era veramente molto legata e ha avuto una sola nel momento che lei ha avuto la sua connessione io ho visto sul suo grembo un codiglio bianco un codiglietto bianco di pezza questa è stata la mia prima immagine così l'ho tenuta per me ovviamente abbiamo finito tutto quanto poi la volta dopo quando l'ho rivista abbiamo potuto parlare e lei mi ha raccontato anche molto perché poi sono anche esperienze che dobbiamo un pochino digerire quindi rivedersi dopo aiuta anche nella condivisione ad un altro livello mi ha detto che effettiva e quindi io mi sono permessa anche di dire santi ma io ho percepito ho visto questo ha un senso e lei mi ha detto guarda era l'immagine che io avevo perché questo è il coniglietto che mi ha regalato zia il coniglietto bianco e che quindi io ho a casa nella cassa banca io avevo proprio visto che lei lo prendeva dalla cassa banca e lo metteva lì quindi in quel momento io non ho avuto il contatto anch'io con la zia come qualche collega in America non so se poi a te perché purtroppo noi siamo pochi e pochi casi ancora non vi posso portare numeri non ci sono statistiche che possiamo condividere abbiamo dei casi clinici che stiamo cercando di mettere insieme fra di noi e quindi delle esperienze però proprio come dati italiani non ne abbiamo però questa è stata appunto vi dicevo non ho partecipato alla connessione però ho avuto d'evidenza in quel momento io ho visto esattamente qualcosa che era collegato con la zia e che lei aveva in quel momento anzi sentiva questo coniglietto coniglietto addosso quindi questo aspetto così come tutta la ricerca sulla IADC vi stavo dicendo è in itinere e dobbiamo lavorare è una tecnica che secondo me apre ad infinite possibilità perché probabilmente questa simulazione bilaterale fatta in un certo momento con determinate emozioni è come se si accendesse una miccia quindi nel lavoro poi di apertura spirituale può essere uno strumento da considerare probabilmente a più livelli però in questa fase e in questo momento deve essere assolutamente riportata come tecnica di elaborazione dell'ulto attraverso poi eventualmente sia la connessione l'altra cosa che vi volevo non so se ve l'ho detta non mi ricordo ma mi sembra di no è che non si fa prima dei sei mesi dal lutto prima di partire una persona mi ha chiamata aveva perso la moglie da 15 giorni e mi ha detto se poteva fare questa tecnica no almeno sei mesi ma non è detto perché come la signora di Napoli era tre anni che ancora stava tutti i giorni nella stanza del figlio è come se quel lutto stesse ancora nella prima fase di riconoscimento e quindi i primi diciamo sei mesi dalla perdita dopo i sei mesi dalla perdita che è importante dal punto di vista psicologico è molto importante perché noi possiamo accelerare noi come psicoterapeuti possiamo indicare delle strade ma il grosso lavoro l'attivazione ovviamente di tutto il processo la dovete fare voi no? quindi deve essere già attivato un processo che poi può essere come dire appunto eventualmente accelerato quindi prima dei sei no ci sono ho finito dicendo di ok concludo soltanto così lascio il tempo a qualche domanda se qualcuno vuole se no racconta ancora qualche caso io con questa frase di Jung che poi secondo me infatti ci pensavo mentre stavo lì che tutti i relatori hanno detto delle cose molto importanti anche poi per il mio intervento quindi le cose non sono mai a caso Jung è stato citato un po' da tutti guarda caso l'unico con una frase che è la fine di un suo pensiero ovviamente ma che è estremamente rappresentativa e mette veramente insieme poi quello a cui io tengo in maniera particolare che vi dicevo all'inizio cioè il percorso personale e spirituale sono due dimensioni che devono circolare insieme che è proprio chi guarda fuori sogna chi guarda dentro si sveglia quindi io vi ringrazio e vorrei sentire se ci sono domande curiosità su questa tecnica volentieri spendo questi cinque minuti per domande intanto siete stati bravissimi vi ringrazio perché avete retto un'altra ora grazie tutto chiaro? benissimo ok e allora ho finito cinque minuti prima vi percorrerai grazie grazie